Ben trovati amici del Centro Meteo Italiano. L'arrivo di una perturbazione da ovest porta a nuove precipitazioni in Italia. Vediamo quindi nel dettaglio le previsioni per giovedì 11 aprile. Al mattino tempo instabile con pioggia e neve, più asciutto localmente solo al nord ovest, sul basso versante adriatico e tra Calabria, Sicilia e Sardegna. Al pomeriggio precipitazioni diffuse su tutta la penisola, con nevicate sui rilievi fino a 1700-1900 metri. In serata è inottata fenomeni in progressivo esaurimento, specie al sud e sulle Alpi, condizioni di generale instabilità altrove con ancora piogge, acquazzoni e nevicate a quote medie. Le temperature tenderanno ad aumentare specie nei valori minimi, massime invece stazionari o in lieve diminuzione. Tutte le previsioni dettagliate per le vostre località le trovate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.